Salve da Globalati, oggi tempo ancora incerto, un po' ventoso, ma ha smesso di piovere. Tanta neve in sila, anche a Longobucco c'è stata una spolverata di neve. Sicuramente Botte Donato e anche Monte Pollino sicuramente, Lorica, ci sarà tantissima neve. Oggi a casa, visto che ieri ha piovuto moltissimo, quindi non era neanche conveniente andare in campagna, mi ha ritrovato tutto abbastanza bagnato. Lavoretti a casa, pulizie generiche, e oggi ho preparato anche questo bellissimo piatto, sempre utilizzando il nostro fuoco del caminetto. Vedete? Magari sono un po' ripetitivo, per oggi ho fatto questa, sempre con le fave, domani, nella prossima settimana invece faremo i nostri fagioli, quelli barlotto, sempre con lo stesso sistema. Magari faremo le lagane la prossima volta, fatti in casa. Adesso mi sono rimaste queste fettuccine, queste tagliatelle, sono state preparate anche con le fave cotte nella pignata, vedete? Bellissime. Quando sono diventate scure fa niente, ma è così. Adesso io che faccio? Poi che si fa? Si cucinano, diciamo, almeno per tre ore, ci voglio di tempo per cucinarle, due ore e mezzo, tre. Poi si mette un bel po' di olio extravergine d'oliva nella casseruola, in questa pentola. Si mette dell'olio, io ho messo anche uno spicchio d'aglio, poi un bel po' di pepe nostro macinato di quello nostro locale, il pepe rosso, dolce in questo caso. E dopo di che, quando l'olio diventa leggermente, che comincia poco poco a friggere, bisogna subito mettere almeno un tre quarti di questa roba, con tutta l'acqua. Dopo di che si mettono, direttamente, subito dopo, si mettono le nostre, in questo caso le nostre tagliatelle, e dopo di che, ovviamente, si lasciano cucinare, cuocere per almeno, diciamo, 20 minuti. Ecco qua, si prepara questo bellissimo piatto così, poi si mette anche un po' di sal, chiaramente, se volete un po' di peperoncino, e si possono gustare con tutto questo sughetto, credete che è una delizia. Anzi, quando sono addirittura più fredde, sono ancora più sapolite questa roba qua. Però io le mangio così. Chiaramente queste anche si possono fare i ceci, si possono fare i fagioli, chiaramente. I fagioli sono quelli più indicati, con un po' anche di, diciamo così, di cotenna. Vedete qua? E le fave, queste qua si possono ancora mettere qualcuna, magari che sono più, diciamo così, meno cotte, nel senso che li possiamo gustare più croccanti. Vedete? Anche con un paio di fogliettine di alloro, che adesso io toglierò, vanno bene per completare questo piatto. Un piatto, vedete, molto succoso, pastoso, molto nutriente, è veramente facile da preparare, e ovviamente anche con le nostre fave biologiche, delle macchie e delle coserie. Questa è una rimanenza anche per stasera e domani. Grazie all'attenzione da Michele Expert.